E' venuta questa idea per ampliare il servizio di questo centro commerciale che è da diversi anni che è un po' l'abbandono, ha tanto spazio e aveva tanto potenziale. Quindi un servizio come la gelateria secondo noi era quello che mancava. Allora noi siamo partiti con il caffè della fortuna e poi dopo abbiamo aumentato, abbiamo ampliato prendendo la live room, è una sala dedicata a concerti e adesso abbiamo preso l'ulteriore locale che è una gelateria, sempre legato al caffè della fortuna. Abbiamo cercato di dare più servizio possibile con i gelati e entriamo in un mondo nuovo dove io non c'ero mai stato ma è tanto bello e sperando di ampliarlo con una clientela diversa da quella che già abbiamo. Il gelato è fatto da noi, è tutto artigianale, di qualità, abbiamo puntato molto alla qualità e alla ricerca della perfezione come in tutte le cose che facciamo anche nel bar. Abbiamo sempre cercato la perfezione in ogni cosa. C'era tanta aspettativa dietro questo progetto e già da diverso tempo come è cominciata a girare la voce già la gente si informava, quindi l'aspettativa era tanta. Speriamo di non deludere, siamo partiti molto bene al momento. Invitiamo tutti a venire a provare per assaggiare il nostro gelato artigianale.